Che cos'è veramente l'autocontrollo? Io non ho dubbi nel risponderti. L'autocontrollo è una delle caratteristiche delle persone di successo. Eppure, nell'immaginario collettivo, il concetto di autocontrollo è qualcosa di triste, come se una persona che si autocontrolla si privasse dei piaceri della vita. Ma non è proprio così. L'autocontrollo non è starse né lì impalati senza potersi muovere per paura di fare qualcosa di cui vergognarsi. Quindi non c'è il concetto del controllo poliziesco per cogliere in fallo chissà chi. Se tu hai questa idea della parola autocontrollo sei proprio fuori strada. L'autocontrollo è la capacità di scegliere le situazioni che ci onorano, che ci consentono di essere integri e coerenti. Quindi autocontrollarsi significa scegliere le cose adatte a sé. Se hai dei dubbi su questa mia dichiarazione, prendi un dizionario, un dizionario della lingua italiana e possibilmente un dizionario etimologico che ti spiega l'etimologia delle parole. Autocontrollo significa controllare se stessi. Vediamo bene che cosa significa controllare. Controllare significa verificare, cioè accertarsi sino a che punto i dati in esame corrispondono al concetto originale. Quando tu fai una verifica, confronti una cosa che stai verificando con un modello, con un concetto originale, con un'essenza e vedi quanto vicino è la cosa che stai esaminando, quanto vicina è all'originale, all'essenza. Quindi controllare significa accertarsi che quello che stai esaminando corrisponda all'originale. Quindi autocontrollo significa controllare se stessi, significa accertarsi che la cosa che la persona può fare corrisponda all'essenza della persona stessa. Infatti l'autocontrollo è la capacità di scegliere le situazioni che ci erano, che corrispondono a noi, che ci consentono di essere integri e coerenti. Se è la prima volta in vita tua che analizzi il significato della parola autocontrollo e l'etimologia della parola controllare, magari sei un po' sorpreso. Quindi io ti consiglio di rivedere questo pezzo del video. Intanto io vado avanti per sviluppare il concetto che ti ho appena spiegato, cioè che l'autocontrollo è la capacità di scegliere le situazioni che ci onorano. Qual è il concetto originale di te? Cioè quando vai a verificare con l'autocontrollo, con la verifica, se la situazione proposta corrisponde alla tua essenza, tu devi sapere qual è il concetto originale di te. Devi sapere qual è la tua essenza. Hai ben chiara la risposta a questa domanda? La risposta è una sola. Tu sei un essere umano e quindi la tua essenza è più vicina ai piani di amore, verità e bellezza piuttosto che alle preoccupazioni del corpo che usi. Il corpo ha i suoi appetiti, si stanca, ha sonno, ha fame, si sporca, va lavato, va curato e tutte quelle attività ti occupano molto. Ma tu non sei il tuo corpo. Tu ti servi di un corpo, provvedi a nutrire il corpo, ma la tua essenza non è lì. La tua essenza non è nel lavare il corpo, nel nutrirlo e nel soddisfare i suoi appetiti. La tua essenza è più vicina ai piani di amore, verità e bellezza. Quindi devi avere ben chiaro questo concetto quando parliamo di autocontrollo. Quando ti autocontrolli nel modo corretto, verifichi se il valore delle tue azioni corrisponde alla qualità della tua essenza. Ecco la verifica che si fa con l'autocontrollo. Una persona che si autocontrolla sceglie se le situazioni in cui si trova, se le azioni che compie corrispondono alla qualità della sua essenza, che è un'essenza di essere umano. Ripeto, un'essenza vicina ai piani di amore, verità e bellezza, piuttosto che alle preoccupazioni del corpo che usi. Ognuno di noi trova ogni giorno decine di occasioni per tradire se stesso, per ottenere facili guadagni. Chi si autocontrolla sceglie di vivere in situazioni in cui non tradisce il proprio onore e non perde di vista la propria meta di essere umano consapevole. Ecco il punto essenziale che è anche il punto di forza dell'autocontrollo. Il fatto di non perdere di vista la propria meta di essere umano. Cioè il motivo per cui tu vivi non è stare qui ad accudire il tuo corpo, lavarlo quando si sporca, riempirlo di cibo quando ha fame, portarlo a dormire quando ha sonno, tu non sei il babysitter del tuo corpo. Quindi una persona che si autocontrolla evita di tradire se stesso, evita di perdersi per ottenere facili guadagni e rimane focalizzato per non tradire il proprio onore per non perdere di vista la propria meta. E quindi bisogna fare delle scelte. Infatti l'autocontrollo è la capacità di scegliere cosa è conveniente per noi, cosa si adatta a noi, a noi esseri umani. Chi si autocontrolla si trattiene dal compiere certe azioni non per timore di un castigo, ma per la sua libera e lucida volontà di continuare ad esistere in modo integro, etico, sano e lungimirante. Ecco perché evita i facili guadagni la persona che si autocontrolla. Non perché ha timore di un castigo esterno, ma perché capisce che la perdita, il castigo, se vuoi usare questa parola è proprio nell'abbandonare se stessi, nel tradire se stessi. Quindi una persona che si autocontrolla agisce in modo conveniente, in modo integro, etico, sano e lungimirante. Non le interessa il guadagno a breve termine, ma le interessa una visione etica completa. Se impari a rispettarti e se arrivi a capire che meriti di vivere in un mondo onesto e pulito, questa è una conquista che devi fare tu. Se tu credi di poter vivacchiare in un ambiente sporco, in mezzo alla spazzatura, in mezzo a gente corrotta, con l'inquinamento che aumenta, e non ci fai niente perché dici vabbè ma tanto io, questo vuoi che merito. Poi vorrei vedere se uno viene a mettere la spazzatura nel tuo piatto dove mangi, quello ti dà fastidio. Se uno ti aggredisce fisicamente, ti difendi, quello ti dà fastidio e se non riesci a difenderti fai la vittima e vai in giro a piangere. D'accordo, ma le aggressioni ci sono già, ci sono al tuo ambiente, soltanto che accade dieci metri più in là della porta di casa tua e ancora c'è quel margine di dieci metri, quindi tu non guardi oltre nove metri e dici vabbè ma a me non interessa e quindi accetti di vivere in un mondo sporco e disonesto perché fino adesso la disonestà è rimasta al di là dei nove metri e quindi pensi che la cosa non ti interessi, quindi ti tappi il naso quando senti la puzza del marcio e vai avanti così. Invece ci può essere un altro livello di consapevolezza, il livello in cui tu ti rispetti, in cui tu capisci che meriti di vivere in un mondo onesto e tutto il mondo deve essere pulito, anche al di là dei nove metri, nove metri e cinquanta centimetri del raggio che parte dalla porta di casa tua. Se arrivi a rispettarti e se arrivi a capire che meriti di vivere in un mondo onesto e pulito, allora sei felice di autocontrollarti, cioè di evitare di cacciarti in inutili guai tra gente meschina che ti rovinerebbe. Sei felice di autocontrollarti per scegliere il tuo ambiente e le azioni che tu fai in quell'ambiente affinché tu possa vivere bene, rispettato e diffondere benessere e rispetto anche alle altre persone. Scegli dunque di controllare da te la tua esistenza in nome dell'etica, cioè della visione vitale a lungo termine. Autocontrollo significa scegliere ciò che è conveniente e quindi per te è conveniente una visione vitale a lungo termine. Perché? Perché in nome dell'etica ti conviene fare questo e quindi ti conviene controllare la tua esistenza. Scegli di avere il comando dei tuoi pensieri e scegli di compiere delle azioni di valore anche se l'ambiente e l'epoca in cui vivi sono decadenti. In persona tu, il primato di civiltà, lo devi a te stesso innanzitutto perché sei un essere umano e lo devi alle persone che rappresentano tale primato. Quindi, nella tua consapevolezza in nome dell'etica, scegli la visione vitale a lungo termine. Scegli ciò che è conveniente a un essere umano. In persona tu, il primato di civiltà, anche se attorno a te ci sono persone che si perdono, sono decadenti, inquinano e accettano l'inquinamento, sia ambientale sia dei costumi. C'è bisogno di vitalità, c'è bisogno di soluzioni che funzionano. E allora, per te che capisci questa necessità, l'indicazione è evidente. In persona tu, il primato di civiltà, comincia a comportarti tu in modo etico. Assumi il comando della tua esistenza e introduci questa visione vitale nell'ambiente di cui vivi.